Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi vi parleremo delle sempre più insistenti voci di gossip riguardanti Angelo Madonia e Sonia Bruganelli che, negli ultimi giorni, stanno trovando sempre più conferme. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Angelo Madonia ha risposto alle voci di crisi con Sonia Bruganelli. Iniziate sui social per l'assenza di immagini di coppia, negando problemi tra loro e lasciando intuire che la loro relazione prosegue. Le insinuazioni dei fan includevano ipotesi di cancellazione delle foto insieme, dando vita a un'ondata di speculazioni su una possibile separazione, soprattutto per il fatto che in passato condividevano moltissime foto. Rispondendo alle voci, Angelo ha voluto stemperare con ironia e spiegare che l'assenza di foto è legata alla riservatezza, evitando di fare della loro vita privata un'esposizione costante. Comunque dovete ancora aspettare, ha commentato scherzosamente, tranquillizzando i fan e chiarendo che non vi è alcuna rottura all'orizzonte. Anche Sonia ha confermato l'intenzione comune di non pubblicare foto di coppia, rispondendo con tono ironico ai commenti che insinuavano una crisi. Ha specificato che loro due non hanno mai voluto condividere foto insieme sul feed, ricordando che le storie, invece, si cancellano automaticamente in un giorno e che quindi qualche immagine potrebbe essere apparsa brevemente. Durante una recente intervista con Mara Venier, Sonia ha accennato a una fase di riflessione personale, esprimendo un'incertezza su quello che realmente desidera per sé e il suo futuro. Le parole di Sonia hanno scatenato curiosità e speculazioni tra i fan, insinuando un possibile cambiamento nella relazione, sebbene non vi siano conferme dirette di una crisi. Ha inoltre dichiarato che per lei è importante restare fedele a ciò che sente veramente, evitando situazioni che possano creare sofferenza, sia per sé che per gli altri. Il suo approccio riflette il desiderio di una relazione onesta e autentica, basata su valori come la trasparenza e la coerenza, che sembrano essere fondamentali per lei. E tu cosa ne pensi della presunta crisi tra Angelo e Sonia? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.